Siamo nel 1962, è andato al potere dopo il primo scioglimento anticipato delle Camere della Storia Repubblicana, ho scoperto, prima di collegarmi in Adriano, ho dato una rapidissima occhiata, purtroppo sempre un po' contro tempo, quindi di nuovo, ah, un ringraziamento a chi mette le correzioni, piccole o grandi che siano, ai nostri errori fattuali, perché andiamo entrambi un po' a memoria, che è anche il divertente della cosa, se volete, invece di stare lì a fare, pretendere di fare gli storici con le date esatte, l'idea è appunto fra storia e memoria, cercare di raccontarlo da due punti di vista molto marcati, quindi non prendete quello che diciamo per oro colato, alcune cose io credo sono fattuali e cercheremo di sottolineare quando sono fattuali. Altre cose sono impressioni, ricordi, valutazioni anche ex post e quindi vanno prese per quel che sono, delle valutazioni di due persone che al tempo avevano l'età dell'adolescenza e dei primi vent'anni. Ecco, detto questo, quindi grazie per chi corregge gli errori fattuali che ogni tanto commettiamo, c'è sto governo Andreotti che è il governo di centrodestra. Se ricordo bene, nasce con una strana atmosfera, perché nasce come governo di centrodestra con in realtà il movimento sociale italiano e qui c'è un punto chiave di quegli anni. Forse questo è il momento in cui, non so come ricorda Adriano, però forse questo è il momento in cui si consolida in Italia l'idea che c'è un piano eversivo di destra e che una certa destra, di fatto fascista, si sta raggruppando, sta prendendo forza, sta usando la cosiddetta strategia di attenzione non solo come strumento di ricatto politico e l'ADC ha la sensazione chiaramente di perdere voti a destra. Tant'è che in quelle elezioni appunto l'MSI attrae supporto dai svariati generali, in primis questo De Lorenzo che è sospetto di golpe, di tentativo di golpe e l'MSI, se non ricordo male, cresce nei voti. Per lui l'ADC si para mollando il centro-sinistra, facendo un governo dell'Ottima Lagodi che se non ricordo male è di minoranza, nel senso che non ha la maggioranza in Parlamento, si gestisce via astensioni e dura cosa? Dura un annetto e mezzo e poi però rifallisce. Nel frattempo, come vedremo, succedono svariate cose dal punto di vista della sinistra, che era quella che abitavamo al tempo, succede il colpo di Stato in Cile un anno dopo, ma di questo parliamo dopo. Tu come lo ricordi Adriano? Io lo ricordo, innanzitutto è vero storicamente che come è scritta la Costituzione italiana il governo non è richiesto ad essere un governo di legislatura, però è il concetto inteso. La legittimità è strettamente parlamentare, il Parlamento vota un governo che poi fa il suo mestiere, cioè legifera, decide, anche amministra, eccetera, eccetera, eccetera. E nei casi estremi il Presidente della Repubblica ha di usare la forza se ci fosse un interesse. Questa cosa viene disattesa per la prima volta lì, quello che mi ricordo è che c'era effettivamente abbastanza uno sfasciamento del centro-sinistra, anche perché una parte considerevole del centro-sinistra, cioè il Partito Socialista, era un Partito Socialista, si parla di molto prima dell'ascesa attività, di molto taxi, delle figure che diventeranno sempre. Una delle cose che succede è che questi guidati da uno dei capi della sinistra, che era Francesco De Martino, dicono sostanzialmente noi cominciamo a averne le scatole volte, ci tenete un po' come un paravento, un paragoggia, e di centro-sinistra e di riforme se ne fanno sempre meno, due del pubblico di riforme. Al primo centro-sinistra almeno era passata la nazionalizzazione della produzione di energia. Nel centro-sinistra, seconda fase, o terza fase, passa sempre meno. Andreotti, che è veramente un mago, purtroppo ecco, non so cosa fare, non capisco cosa sia il problema, forse migliora senza di questo, va bene. Andreotti forma un governo che ha un sostanziale sostegno liberale e un sostegno non parlamentare, non fa parte della maggioranza, dell'MSI, che effettivamente cresce enormemente. Che cosa mi ricordo io? Mi ricordo che era un periodo in cui innanzitutto c'era una vera, almeno negli ambienti, nei due gruppi, gli ambienti laici e di sinistra. C'era una vera paura dei colpi di destra, perché i colpi di destra si stavano facendo. Per chi di voi abbia tempo da perdere e si voglia un po' ascoltare, ci sono due o tre parti di una lunghissima serie che ha fatto per la RAI Zavoli, che si chiama appunto autunno della Repubblica. Ci sono queste due fasi golpiste, uno è il famoso piano sole, cioè solo, di Lorenzo e più tardi il piano di Junio Valerio Borghese, il principe borghese che anche se viveva in Francia ha cominciato a mescolarsi. L'altra cosa che succede in quel periodo è che è un periodo di, e questo a parte il cosiddetto terrorismo, è un periodo proprio violento, una parte della Calabria entra in rivolta. Per mesi e mesi ci sono battaglie campali in Calabria con l'esercito che deve intervenire e così via. Questa cosa è un po' il canto di cigno del centro-sinistra, a modesto avviso sottoscritto, perché? Per tante ragioni. Numero uno, la botta dei movimenti era stata sentita duramente, per cui per esempio un gruppo confi industriale si trova molto sulla difensiva. Per chi di voi si ricorda queste cose, la cosa famosa è che appunto durante l'inizio degli aspetti violenti del movimento operaio in Fiat, a Lingotto, a Mirafiori e così via, il gruppo dirigente, cioè i fratelli Agnelli, per dirla senza troppi peli sulla lingua, licenzia tipo 120 persone. Il sindacato è abbastanza forte da dire che noi continuiamo a scioperare, però non vi parliamo neanche, cioè chiudiamo la trattativa così come sta. La lotta è oltranza e buonasera. Agnelli l'intervento, per ragioni diciamo disciplinari, venisse ritirato. In realtà erano politiche? Erano politiche, erano senza dubbio politiche. Tuttavia, sto cercando di far capire alla gente alcune delle cose che è cambiata. All'epoca, diciamo dalla fine della seconda guerra mondiale fino allo strutturo di lavoratori, non c'era la cosiddetta giusta causa. Il proprietario di un'azienda poteva licenziare me, o 15 come me, o 1.500 perché gli erano girate le scatole, perché eravamo brutti, perché parlavamo male, perché eravamo violenti, perché eravamo pigri, eccetera. In questa stessa cosa cambia. Anche i licenziamenti hanno una richiesta di documentazione. Bisogna dire cosa è successo e diventa una cosa caso per caso in cui uno può andare dal pretore del lavoro e così via. Naturalmente, se voi prendete una cosa che si chiama Partito dei Mirafiori, che è una pagina web, c'è proprio una lista che comincia nel 1970 di tutte le cose che sono cambiate in quel periodo. La democrazia cristiana, che pure rimane un partito di vasta maggioranza, numericamente sono sempre i vici, fino alla sua eutanasia, la democrazia cristiana ha sempre vinto politicamente in Italia, però perde sempre più pezzi e comincia a perdere l'apporto della sua parte più viva. Io all'epoca, sto parlando dell'inizio degli anni 70, abitavo a Venezia e comincia un gran frufru. Cominciano queste specie di agitazioni di vari personaggi, probabilmente il più noto, Vladimir Odorigo, che cominciano a provare a immaginarsi cosa succederebbe se ci fosse un'apertura a sinistra. Su questa cosa giocano su molti tavoli diversi, su molte scacchiere. Però c'è ovviamente un gruppo di persone nel Partito Socialista, nel Partito Comunista, che comincia a inventarsi questa cosa. Questa cosa dura sostanzialmente dal 1971-72 fino alla fine del 74. Nel 1975 questa strategia sfonda clamorosamente. Cioè c'è un gruppo di regioni e un gruppo ancora più elevato di città e non statevi a pensare che siano i soliti sospetti Genova, Milano e Torino. No, il sindaco di Napoli è comunista, il sindaco di Firenze è comunista, il sindaco di Roma è comunista, cosa assolutamente inedita nel mondo molto... e comincia questo fenomeno che adesso è in corso di spegnimento delle regioni rossi. Tra il 70 e questa crisi del governo di centro-destra, che non riesce a tamponare le palle, cade abbastanza rapidamente. È lì che comincia questa particolarità dell'Italia che i governi di legislatura sono rarissimi. Sono proprio casi rari. Cioè, poca gente, chiunque esso sia, fosse esso Romano Prodi o Bettino Crauxi, eccetera, eccetera, riesce ad avere un governo che tiene quanto il Parlamento. Cosa che, come avrete probabilmente notato, è standard. Cioè, in Francia c'è l'opposto estremo, per cui il presidente resta anche quando il Parlamento è contro. Il presidente in minoranza resta presidente e nessuno lo tocca. non c'è la messa in stato di sfiducia. Non puoi. In Italia comincia questa cosa che si ripete a rotta di collo, per cui anche delle semi scorreggie di destra, se Conte si scoccia con Draghi, è in grado di far cadere un governo. In parte contro il suo stesso partito. La cosa diventa sempre più un po' un bobbio. Però comincia l'ora. Quello che io mi ricordo è stata questa enorme montata di movimenti di tutti i generi. Io ero un ragazzino. Però, voglio dire, adesso è quasi incomprensibile che i liceali scioperino. Cioè, non è bene chiaro scioperi contro chi. Non sei un salariato. Non sei un dipendente. Per cui, se io sia o no... Adesso lo fermo, perché ha fatto già la storia di cinque anni. No, no, ma finisci, finisci. No, no. Quello che voglio dire. Quello che mi ricordo, quello che io mi ricordo, a parte le mie private e personali vicende, che se vi interessano sono raccontabili, è che c'è questa montata che sostanzialmente dal 72 al 75 cambia la geografia politica italiana. Si forma un blocco dal nord fino al centro. Cioè, diciamo, da Roma verso nord, escluso Friuli, Venezia e Giulia, che diventano sostanzialmente regioni socialcomuniste. Cosa che non era mai successo? C'erano stati pochi casi di sindaci della liberazione, Dozza, Aldo Agnasi, a Venezia, Gianquinto, ma non c'era mai stato un sistema di regioni che sono recenti. Le regioni stesse sono una riforma agli anni 70. Però il fatto che ci fosse un governatore regionale, un governo regionale, un mini-ministro, eccetera, eccetera, è una roba nuova. Questa cosa è nuova e diventa un blocco di potere che genera le cose che sono pessime, come la corruzione delle cooperative e mangiamenti abbastanza schifosi, soprattutto nell'area della spesa medica. Però genera anche dei fatti, cioè che per la prima volta le donne che vengono maltrattate a casa hanno un centro donna a cui andare, forse a lamentarsi, però almeno ad essere protette. Non bisogna essere proprio seguiti. Dal 75 le carte cambiano. In mezzo ha ragione. Fermo tutto che oggi ci fermiamo al 75. Perché in mezzo, ecco, Adriano ha ricordato, ha aggiunto un altro elemento importante all'atmosfera del 72, cioè la cosiddetta rivolta di Reggio Calabria, che era chiaramente una specie di prova. Allora, è palese, anche se non è acquisito, ma è palese. Ciò che non è acquisito è se vi fosse ancora una volta un grande vecchio o un gruppo di grandi vecchi che coordinavano il tutto o se questo fosse, come capita spesso in politica, il prodotto di un coordinamento spontaneo fra persone e gruppi con lo stesso obiettivo a destra. C'è chiaramente un tentativo di tipo, non dico rivoluzionario, ma pushista della destra reazionaria italiana. Tra la presenza dell'università, gli picchiatori ovunque, le bombe, la crescita elettorale, l'adesione dei generali e appunto a Reggio Calabria, dove con il grido di boia chi molla, che notate il tutto su cosa nasce, è molto divertente, come ha detto Adriano, stanno facendo, si sta attuando il dettato costituzionale. Tra l'altro questo venne in parte considerato una vittoria alla sinistra, perché la sinistra consapevole, la sinistra nel senso del PC fondamentalmente, ma anche il PSI, consapevole di avere una certa forza elettorale consistente in alcune regioni del centro Italia, l'Emilia-Romagna in particolare, ma anche la Toscana e l'Umbria, spingono perché venga attuato il dettato costituzionale che crea le regioni con capacità amministrativa e di spesa. Al tempo le regioni c'erano, ma erano entità amministrative dello Stato, non c'erano elezioni, gli organi non venivano eletti, non avevano autonomia politica. In questi anni la sinistra spinge e il dettato viene attuato. Così facendo si scelgono le capitali. A Reggio Calabria si incazzano perché la capitale della Calabria, l'amministrativa della Calabria, viene data a, se non ricordo male, Cosenza, giusto? Lo scontro era fra Catanzaro e Reggio Calabria. Catanzaro, non Cosenza. Catanzaro, non Cosenza. Esattamente, Catanzaro, bravissimo. Catanzaro dove mi odiano perché un giorno scherzando su Facebook uno ha detto che era la città più brutta che hai visitato in Italia e io ho detto Catanzaro perché la mia breve visita a Catanzaro tanti anni fa, ecco, Gregorio Muzzi sembra avere la mia opinione. Io mi ricordo sto posto, frangamente, poi tutti mi hanno insultato dicendo ma no, non capisci un cazzo se è il solito polentone, ci sono posti bellissimi noi, la grande tradizione eccetera, però mi dispiace dovevo prenderne una, ho preso quella. Niente di particolare contro i catanzaresi di per sé. Ora vi ho raccontato di nuovo la mia esperienza. Quindi l'episodio voi capite è di provincialismo, no? Di localismo, però diventa un'insurrezione vera e propria. Tant'è che c'è persino a un certo punto i sindacati, la triplice sindacale decide, in un certo senso il Reggio Calabria, quella zona del suo reggio calabria, diventa extraterritoriale, controllata letteralmente da gruppi violenti di destra. La polizia, che non scordiamoci mai, c'è poco da fare, in Italia le forze errori in quegli anni, forse ancora, ma di sicuro in quegli anni, sono comandate da persone con grandi nostalgie fasciste e simpatie di estrema destra. Interviene in maniera molto poco decisa, la città è di fatto controllata da questi sindacati e c'è una decisione sindacale di andare a riprendersi, a riportare, a mostrare che non è un territorio della destra, Reggio Calabria, da parte dei sindacati. I quali organizzano una grande manifestazione nazionale e ci sono le bombe sui treni che vanno giù. Io ho sempre associato, non ho mai verificato, forse qualcuno di voi lo sa, che la famosa canzone di venditi, che vuole arrivare a Roma, bomba o non bomba, in realtà abbia a che fare con un qualche vago ricordo di questo. Io ho questi vagli ricordi di piccole bombe, di tentativi di bloccare i treni, di operai, di manifestanti che vanno a Reggio Calabria. Insomma, l'atmosfera di destra c'è, l'atmosfera paura della destra c'è, Berlinguer viene eletto a sinistra così. Andreotti, che è Andreotti, l'uomo più misterioso d'Italia, è stato mafioso per davvero, chi cazzo lo sa. Sì, l'hanno condannato per caso, è stato dichiarato, però non ho mai capito, ve lo dico onestamente, al di là dell'aspetto giudiziario, quanto mafioso l'uomo fosse o quanto invece facesse parte di quella maniera, fosse l'elemento migliore, in quella maniera di far politica romana, che è Francia o Spagna, basta che se magna, che tradotto nel linguaggio suo è io chiudo gli occhi e taccio e mi alleio implicitamente con chiunque, purché io abbia la sensazione che li controllo io e che, come dire, il bastone del comando rimane in mano mia. Per cui è riuscito a fare sia il governo in centrodestra ammiccando le MSI, che stanno al potere con Malagodi eccetera, per reggere il barcone e poi ha fatto il governo del compromesso storico, seppur brevemente ammiccando a Berlinguer perché doveva tenere il bastone e poi due anni dopo ha dato la nascita, ma ne parleremo, all'inizio degli anni 80, al CAF in cui stava con Craxi invece e Spadolini, sempre perché alla fine le carte le dava lui, quindi un uomo davvero per tutte le stagioni è molto cinico da questo punto di vista, infatti fa questa operazione, l'operazione va a nessuna parte, durante la settimana nella ricerca della famosa intervista che sono sicuro che c'è, e sono sicuro che c'è quella dichiarazione cinica in cui dice alla gioventù va tutto male, fatevi il mio consiglio e fatevi il passaporto e pensate ad emigrare, mi sono guardato un po' di prime pagine, quindi era la serie di quell'anno dopo la elezione del governo ed è un governo che non combina niente, travolto da polemiche, da rotture interne alla DC, perché l'altro aspetto è che allora che nasce dentro la DC, era detto Adriano, non sono una fronda di sinistra molto disposta, di cattolici di sinistra disposti a lavorare per il compromesso storico, c'erano già un po' i cattolici di sinistra, alcuni erano transitati direttamente nel PC, come si chiamava quello lì Adriano. Il padre della nostra amica. Ce n'è un fottio, non so chi sia il padre della nostra amica, forse ti riferisco a Irodano. Ci sono i gruppi di Ceriani Sebregondi, il più famoso probabilmente è Antonio Tatò, il cosiddetto... Era il sanitario per le guerre, il più leader, però era Franco Irodano, no? Irodano, che è uno che ha fatto la resistenza da cattolico, ha perfino fondato un PCC, che non è il partito comunista cinese, ma è il partito cattolico comunista, c'era in mezzo da Luciano Barca, Claudio Napoleone, c'era un mucchio di gente, c'era un gruppo... Io sono un po' un prodotto di quel mondo lì, nel senso che anche se era molto anti-istituzionale, molto garibaldino il mondo dei preti operai, il mio avvicinarmi alla politica di sinistra, venendo dal cattolicesimo, dai chierichetti, dalla parrocchia, da un padre democristiano e cislino, ha a che fare con questo, con la lettura appunto menzionata di questa rivista che si chiamava Sette Giorni, su cui erano settimanali, su cui scrivevano tutti questi... Poi c'è una cosa, in quel caso conta molto che una delle cose che adesso è quasi scomparsa, all'epoca c'era una vera organizzazione di azione cattolica che contava, per cui tutti quelli che sono diventati famosi in seguito, e non sto prendendo per i fondelli, da Umberto Eco a Toni Negri erano attivisti dell'azione cattolica, incluso il filosofo Gianni Vattimo, ma una marea di gente, il direttore generale della RAI. Questi gruppi erano dei gruppi che erano chiaramente dei gruppi democristiani, di natura e di formazione, e però vedono chiaramente i limiti del centro-sinistra e capiscono, anche dati i rapporti di forza, che una trattativa faccia a faccia solo col partito socialista si rivela inadeguata, perché il blocco di sinistra era, diciamo, metà due terzi comunista e un terzo socialista. Sto semplificando, ma non moltissimo. Anche di più, userei a dire, il PC era chiaramente l'elemento dominante, anche culturalmente. C'è un aspetto, come due del pubblico mi hanno molto tampinato su questa cosa. Un aspetto della nascita dei gruppi terroristi è questa cosa di cui stiamo adesso parlando. Cioè il senso che ci sia un vero pericolo di destra e che le forme di difesa non possano essere puramente reattive. E comincia questa mafrina che degenera in atti davvero omicidi dell'antifascismo militante, che bisogna essere pronti, è esattamente come, mettete voi la parola che vi piace, come in Grecia, come in Argentina, dalla fine del 73, come in Cile e così via. Bisogna che gruppi più o meno autoselezionati di militari, di persone militarizzate, siano pronti alla guerra civile. Tenete presente che in questo periodo il Partito Comunista finalmente, dopo mezzo secolo, transita dall'era stalin-togliatiana all'era moderna. Enrico Berlinguer, il papà della signora della RAI, diventa segretario del Partito Comunista a Milano esattamente quando Feltrinelli esplode sul famoso traliccio, che è un vero traliccio dell'energia elettrica che è vicino a Milano, dove adesso è la fine in Vesta, la Segrante, che è una città. A proposito, come ho cercato di correggere? Non è l'affermazione di Adriano, anche se forse leggermente imprecisa, è corretta. Fra il gap di Feltrinelli e le brigate rosse di Curcio, i contatti ci sono, ci sono tentativi di influenza. Adesso, i dettagli di chi si è passato qua o là, sono andato a verificare, è documentato che i dettagli ci sono. E Feltrinelli è uno convinto, Feltrinelli era giovanissimo, aveva fatto il partigiano, aveva combattuto, ed era uno assolutamente convinto che questo rischio fascista a partire dal 68-69 ci sia. E quindi non a caso chiama gap questa organizzazione che costruisce. Ovviamente uno può dire delira, sì, delira e comunque al di là del fatto che il rischio ci fosse o meno, la scelta di combatterlo facendo la piccola lotta armata, andando a mettere le bombe sui tralicci, è semplicemente folle, delirante. E' verissimo, no? Però è parte di un'atmosfera che c'è e questa cosa va tenuta in coda. Nel 73 questa atmosfera viene rafforzata dal golpe in Cile. Tenete conto che c'è il golpe in Grecia, quindi se voi guardate il Mediterraneo in quel momento, avete i colonnelli che hanno fatto il golpe in Grecia, avete Franco, che ancora non è ammalato grave, che garrota la resistenza, chi si oppone in Spagna, avete Salazar alla fine, a pochi passi dalla fine, perché nel 74 c'era la cosiddetta rivoluzione dei Garofali, se non sbaglio, il 25 aprile del 74, se non ricordo male, in Portogallo, ma comunque Salazar nel 72-73 è ancora al potere, e come tutte le dittature alla fine diventano particolarmente oppressive, stanno conducendo una guerra in difesa delle loro colonie in Mozambique, Angola e Guinea-Bissau, se non ricordo male. Giusto, Adriano? E anche questo c'entra con l'atmosfera dei primi gruppi terroristici italiani. L'abbiamo detto e ripetuto, questa è una cosa che ringrazio Adriano per avermela fatta accogliere completamente due anni fa quando abbiamo fatto la prima conversazione su cosa è stato il comunismo mondiale vero, il comunismo legato all'URSS, che era tutto molto legato a questi episodi importanti di indipendenza nazionale, liberazione del colonialismo, avendo scelto Inghilterra, Stati Uniti e Francia, paesi occidentali, in molte circostanze, tipo quella portoghese, di stare, di cercare di mantenere, post-Seconda Guerra Mondiale, poteri colonialisti, dall'Indocina francese appunto all'Africa portoghese o francese, di fatto molti movimenti di liberazione nazionale, anti-imperialisti o anti-colonialisti, che oggi troviamo di tutto scontati, perché se uno viene a dire ma il Mozambico è territorio portoghese, vi viene da ridere, giusto? Ma siete impazziti. Ecco nel 1970, che è vero che è mezzo secolo fa, ma non è così lontano, e sono gli anni di cui stiamo parlando, questo non sembrava una cosa assurda, il Portogallo voleva tenersi, tre nazioni africane, con un territorio gigantescamente maggiore del suo, in nome di un qualche cazzo di ritorno. Quindi se uno guarda l'Italia in quel momento è contornata di dittature fasciste. In Italia c'è De Lorenzo, ci sono le bombe, e quindi insomma, questo occhio è, che non venga fuori, o Boldrin adesso giustifica i terroristi, no no, Boldrin non giustifica i terroristi, però è un tentativo di far capire che l'atmosfera non è di tranquillità, e che persone deviate, particolarmente sensibili, confuse, alcune anche violente, o con la testa pullulante di fantasia rivoluzionaria, possono facilmente decidere che loro si identificano con IRA, con, come si chiamava, la resistenza angolana, e così via, e che siccome il pericolo fascista c'è, occorre fare la lotta rivoluzionaria. E poi appunto arriva il Cile, e qui ripasso la parola, sì, Marcello Binetti, Raniero Lavalle era il direttore di Sette Giori, ripasso la parola a Adriano per raccontarci come ha vissuto la storia di Allain del golpe. Quello io me lo ricordo, per mia sfortuna, o per mia fortuna, non lo so, io ero all'epoca in cui il governo di Salvador Allain viene defenestrato, per una volta letteralmente, non è una battuta, io ero, per chi conosca Venezia, in Campo Santa Margherita, alle giornate del cinema, che era una specie di kermesse, di personaggi. Io pure, allora diciamolo, non ci siamo incontrati quell'anno, ma due anni dopo, eppure eravamo chiaramente negli stessi posti. No, no, era chiaramente negli stessi posti, la geografia è quella, questo, se ci andate adesso, quelle cose che adesso, uno credo sia un supermercato, uno è una profumiera, uno è un anfiteatro dell'università, erano cinema, che erano stati militarmente occupati da attori, registi, un po' di tutto, che si opponevano alla tradizionale mostra del cinema, che invece si svolgeva nel palazzo del fascio, a Lido. Quella che si svolge tuttora, che è ritornata in grande fascio, e cui costoro, gli eredi costoro vanno. In grande spolvero, perché tutti si mettono bene con la giacca da sera, con il vestito bello, eccetera, eccetera. Io ero lì, ed è arrivata questa notizia fulgorante, stanno, io mi ricordo perfettamente, perfino a chi me l'ha detto, stanno uccidendo Allende, e gli erano, loro, cioè il soggetto della frase, chi è? Boh, non si capiva. In due versioni, c'erano i camionisti in sciopero, in una era l'aviazione, tutto questo un po' era vero. Quello che successe, io non sono un esperto di storia cilena, sono cose che un po' ho letto, il governo Allende aveva assai rotto le scatole a molti cileni, inclusa la casta militare, che è una casta prussiana in Cile, e tutto questo aveva molto solleticato varie sezioni del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il quale è molto probabile, da quello che se ne capisce, che non abbia incidato in golpe. Certo lo ha appoggiato, ha detto, chi va, va, noi non vi mettiamo di mezzo le transene, le barricane. Allende cade, cade in una maniera un po' abbastanza dura, nel senso che non cade come altri governi, cade da un governo eletto con un Parlamento che lo vota, alcune riforme, mi avviso alcune un po' idiote, comunque se ne può discutere in sede storica, era sicuramente un governo illegittimo che viene sbullonato, ha una casta militare che fucila tutti e non è gentile. È un periodo in cui veramente torturano la gente nei campi da tennis, è una nuova un po' orrenda. Questa cosa scuote moltissimo l'Italia. Non so se sia perché tutti si trovavano in una condizione in cui era un paese latino, cioè se c'è un golpe in Finlandia ho l'impressione che non gliene frega niente a nessuno. In Cile pareva che fosse come noi. Anche perché è vero, c'era una forma, questo è quello che mi ricordo, chi di voi è più bravo ne sa di più me lo dica, c'era una forma di omologia, per cui lotta continua pensava di essere l'estrema sinistra cilena. Bisogna dare le armi al gruppuscolo minuscolo. Esattamente, posso anche ricordarmi, l'Ottocondio si identificava col Mir, che era la componente più estrema e lì va detto, adesso qualcuno dirà ecco Boldrin si sa, ovviamente siccome è di Chicago è fuori a Pinochet, l'ultimo anno, anno e mezzo del governo all'Ende avevano fatto delle stronzate politicamente parlando suicide, lasciandosi prendere la mano. Ora di nuovo adesso non possiamo fare qua la storia del Cile, il Cile era un paese di una diseguaglianza mostruosa, il conflitto sociale era bestiale, però la casserolada, cioè l'insurrezione popolare abbastanza ampia contro un governo che già era di minoranza in Parlamento e lo è diventato ulteriormente, era un fatto vero. Questo sia chiaro, cercare di capire le robe, non vuol dire che adesso giustifichiamo Pinochet, c'è una profondissima differenza, però occorre anche capire che Pinochet non è vero, che erano quattro generali e due soldati isolati senza supporto popolare alcuno. Avevano supporto popolare, oserei dire purtroppo, se volete, più supporto popolare, nel senso di conto dei voti, di quanto avesse il governo di Salvador Aurelio. E sì, in Italia vengono gli Intilimani, viene Altamirano, c'è moltissimo, e a Venezia, il Festival del Cinema, che racconta alternativo, era il primo o il secondo, perché Milano si fece per due o tre anni, per la Santa Margherita. Credo che fosse il primo, a cui bisognerebbe domandare ai morti, veramente a Marco Favoli. Era frutto, tra l'altro, delle proteste di alcuni vecchi amici nostri, tra cui Cacciari e Nono, che facevano le volte contro la Biennale. Lì ci fu un, per chi non fosse presente, a un certo punto, nel 1968, cominciò questa specie di, a mio avviso, simpaticissima, rivolta degli artisti contro le mostre d'arte, per cui la Biennale era dei padroni. I padroni in realtà erano se stessi, nel senso che quello che venivano mostrati erano i quadri, quei quadri lì, che poi avete visto, nei musei, che sono comprati e venduti. Comunque, comincia una vera rivolta, che ha aspetti abbastanza strani, nel senso che marciano 5.000 persone, da Piazza San Marco fino alla Biennale, che è in un giardino abbastanza isolato rispetto a Venezia. La polizia deve difendere i quadri. Ci succede un casotto allucinante, che continua, per cui c'è una specie di guerra, di una parte considerevole dei gruppi artistici e intellettuali, inclusi il cinema, ma anche appunto Luigi Nono, la musica, contro la Biennale, che va, boh, la parola d'ordine era democratizzare, che non si capisce bene cos'è, perché la Biennale non è un Parlamento, per cui non è che ci siano i partiti, però bisognava cambiare delle cose. Se uno fosse molto cinico e cattivo, direbbe che questa cosa serviva a mettere se stessi nel Consiglio di Amministrazione. I nomi, forse li sapete, se non li sapete non ha nessuna importanza. Se uno è meno cinico, c'è la specie di questa stroba strana, per cui, come c'erano le lotte, che ne so, contro la nocività in fabbrica, bisognava fare le lotte contro François Truffaut. Sì, sì, sono andato con, no, è vero, qualcuno sono lì sorpresi, la Biennale dei padroni mi mancava, no, no, è vero, cioè, io mi ricordo perfettamente, ero un ragazzino e l'ho visto dopo, ma sono proprio il Luigi Nono, che era un notevole compositore. Sì, abbiamo, anzi, Adriano molto meglio di me, credo, sia ancora molto amico con le figlie e con la moglie. Sì, sì, il signor Gigi Nono girava abbondantemente nell'ambiente in cui giravamo noi. Ma andiamo avanti. Sì, Novo e Paciari guidano una manifestazione e notate, la questione era la questione della meritocrazia che esce, che era quella che usciva dall'ambito universitario, è una specie di proiezione sul mondo del cinema e dell'arte in generale, perché l'intera Biennale che viene messa a discussione, non solo quella del cinema. Ricordate che il festival del cinema è la cosa più popolare, ma è parte della Biennale Veneziana delle Arti. Solo che quella della pittura si fa ogni due anni e invece il festival della Cina, siccome è di successo, ci sono i soldi, si fa tutti gli anni al Palazzo del Lido e Paraggi. È contro la meritocrazia, infatti la prima reazione di autodifesa della Biennale è che non la fanno competitiva. Giusto? Sì, ci sono tutti questi aspetti. C'è una cosa, di quel periodo, l'attacco alla Biennale è una cosa strana e per questo che mi è simpatico, perché sembra veramente una cosa un po' da ridere, cioè se voi guardate ai capi, cioè che, che ne so, Giuseppe Ungaretti venga sollevato di peso da due Marcantoni dei Carabinieri, che appunto un signore anche all'epoca molto più giovane che Emilio Vedova sia in una piazza a tirare tavoli di caffè, nel senso di dove la gente prende il caffè, in testa i commissari, è una roba un po' strana, nel senso che non si era mai visto, eppure è così. Nella Biennale di quell'epoca tutti quelli che diventeranno poi osannati invece vengono presi a sberle ma considerevoli, cioè Cesare Giavattini, Pierpaolo Pasolini, Ugo Pirro, Francesco Maselli, i nomi sono quasi tutti quelli che hanno fatto il cinema e dentro, io mi ricordo perché per un caso ci sono passato, c'era questo gruppo perplesso di cineastri stranieri che veramente non capivano, io sono uno che fa cinema in Danimarca e faccio dei film su quello che vi pare a voi, sul passaggio della lepre danese durante il cambio di stagione e non capisco perché vengo accusato di questa roba che sembra gravissima e sconvolgente. Sì, ho conosciuto bene Emilio Vedova per ragioni che non hanno nessuna rilevanza storica anche perché eravamo appunto in una città molto piccola in cui molte persone si conoscevano perché non essendoci i veicoli è facile incontrare le persone, è più facile se uno abita. si può anche dire la banale cosa ragazzi allora è banale Venezia appunto è piccola molta di queste intelligenze che conoscete viveva nel centro storico che anche se al tempo aveva il doppio della popolazione di adesso era comunque poca gente 120.000 130.000 persone tra centro storico e lì da adesso sono 50.000 e c'era a Venezia un ambiente di sinistra dominante molto forte che coinvolgeva direi l'80% del mondo intellettuale che girava attorno al partito comunista italiano e i vari gruppi e nella misura in cui eri in quei gruppi ed eri forse anche diciamo così più attivo della media come nel caso dei due che vi stanno parlando finivi per incontrare queste persone le quali partecipavano attivamente da Emilio Vedova a Mario Baratto da Bruno Trentin quando passava per di là perché veniva a salutare appunto la famiglia che ho appena menzionato a Luigi IX e così via essendo attivi ed essendo un mondo quello era buono di quel mondo poi per carità alla lunga le differenze si sono viste ma ve lo dice uno che veniva da una famiglia proletaria e quindi che non apparteneva c'era un aspetto che è durato alcuni anni poi è andato via per le differenze cosiddette di classe mi pare siano ritornate e di status però a metà anni 70 era tutto un darsi del tu compagno nono trattava Michele Boldrin o almeno dava l'impressione di trattare quel contadino di Boldrin come se fosse suo pari e ci discuteva in sezione o in sezione universitaria o alla commissione cultura e quindi questo era il mondo con l'elenco dei nomi c'era Manfredo Tafuri c'era Carlo Imonino c'era Mezzo Mondo prego Adriano penso che sia un mondo che è scomparso nel senso che è un periodo almeno quelli della generazione mia c'era questa cosa bizzarra a me bizzarra anche quando ero piccolo al liceo che quelli che vedevi in sezione erano gli stessi che c'erano nel libro di storia lì cioè la professoressa di storia ti diceva e sul rinascimento leggete Tafuri si chiama La Sfera non mi ricordo più La Sfera è il labirinto un nome strano non chiedete troppi ve li posso dare dopodiché Tafuri si rivela essere Manfredo quello che mi spiega Manfredo quello con cui bevevi la vodka e con cui bevi a Manfredo beveva una quantità gigantesca di vodka gelata quella del Cile però fu una svolta vera se lasciate perdere gli aspetti della mia vicenda personale perché spinse un'ala a diventare veramente militarista cioè tutti quelli hanno detto avete visto appena uno alza il cranio viene massacrato perché c'era questa cosa fasulla che Gian Giacomo Feltrinelli fosse lui stesso vittima di un complotto cioè che non ci fosse la sua missione a far saltare l'elettricità in Lombardia ma ci fosse un complotto non si capisce di chi devo dire all'ora del merito che l'unico che non ha detto cazzate è stato il giornale Potere Operaio che il giorno stesso che hanno trovato il cadavere ha titolato è caduto un rivoluzionario non ha detto orredo complotto reazionario è caduto un rivoluzionario che ha sbagliato l'orologio del timer cioè le ore erano false e il Cile produce quella che a me all'epoca è parsa la svolta decisiva cioè che la sinistra italiana che all'epoca ripeto è metà del paese si convince da dentro da fuori da sopra da sotto dal modo in cui voi volete prenderla che i metodi tradizionali di legittimazione di un governo cioè aver la maggioranza parlamentare sono in Italia sbagliati sono insufficienti questa cosa è una polemica stranissima e lì nascono tutte queste teorie il famoso adesso è quasi un'autopsia il famoso pensiero del compromesso storico era questo cioè che non fosse vero che una maggioranza parlamentare fosse in grado di governare legiferare amministrare eccetera 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 di prendere il comando di un paese ma ci volesse una specie di di roba ecumenica in cui di super maggioranza ma Berlinguer era molto esplicito Adriano è giusto cioè quello che succede in Italia più il Cile i colonnelli greci eccetera e la conclusione è visto la democrazia borghese non è uno strumento per per fare il socialismo voi che ci avete raccontato proprio lì si crea la spaccatura eterna poi fra i cosiddetti rivoluzionari e i cosiddetti revisionisti voi che ci avete detto che con la democrazia il voto eccetera si fa la socialdemocrazia e poi si fa il socialismo avete torto perché appena si prova a farlo un pochino appena ci sono le lotte operaie in Italia spuntano le bombe fasciste piazza Fontane picchiatori De Lorenzo i tentativi di colpo di Stato in Grecia lo stesso guardate cosa succede in Spagna e in Portogallo e guardate cosa è successo in Cile ovviamente la percezione del Cile è distorta cioè la visione è che in Cile c'è un governo di stragrande maggioranza popolare 60% della popolazione 70% che sta facendo lentamente il socialismo purtroppo non è così come abbiamo detto e che c'è il governo imperiali scusate l'esercito che per conto delle grandi aziende dell'imperialismo lo prende chi vuole la rivoluzione dice ecco io mi ricordo lo slogan al tempo quindi stiamo parlando nel caso mio almeno di terza tra la terza liceo scientifico e la quarta a 73 74 e lo slogan in quel periodo io bazico avanguardia operaia giro per avanguardia operai adesso mi sento parte la slogan è compagno Berlinguer ci dicono dal Cile che il compromesso storico lo fanno col fucile e cioè qual è l'affermazione te la ricordi ecco l'affermazione è siete degli illusi a pensare che il sistema liberal democratico possa essere usato per riforme di tipo socialista appena si chiude il sistema liberal democratico per riforme di tipo socialista succede il colpo e succede la violenza quindi quindi ergo ci vuole la rotta armata io personalmente è proprio su quello che alla fine nel 74 saluto che mi sembra una follia la rotta armata totale però se ne discute in quell'ambito della sinistra alcuni avevano già preso la strada nel 72 nel 73 74 molti altri a mio avviso prendono la strada proprio per questo la risposta che viene dal PC di Berlinguer è esattamente l'opposto e dice no no ah sì il problema c'è se voi leggete andate a leggerveli li trovate facilmente c'è un sito poi dedicato a Berlinguer dove c'è tutto quindi non chiedeteci di metterli noi per favore usate Google e cercate riflessioni sui fatti del Cile Enrico Berlinguer li trovate andate a leggerveli sono scritti con un linguaggio un po' del tempo quindi città Lenin cioè vi fa anche capire in che senso il dibattito tra anche quel PC fosse ancora molto dentro agli schemi la rivoluzione Lenin il socialismo la costruzione del socialismo però do con tutta la retorica leninista letteralmente cosa dice? dice se vogliamo andare avanti siccome c'è questo pericolo dobbiamo aggregare la grande maggioranza delle masse popolari e perché prende il Cile secondo me perché il Cile e poi ripasso la parola Adriano perché il Cile lo colpisce così tanto? perché in Cile il partito di destra dall'altro lato che prende una posizione ambigua sul golpe alla fine all'inizio lo appoggia poi si tira indietro poi lo appoggia è la DC il Cile è forse l'unico paese latinoamericano dove c'è una democrazia cristiana che si chiama letteralmente democrazia cristiana che era stata al potere prima il capo al tempo era Eduardo Frey se non ricordo male che era stato presidente della Repubblica prima di Ainde e la DC cilena ha legami forti con la DC italiana esattamente come il partito socialista cileno ha rapporti forti col partito socialista italiano e così via c'è proprio ci sono questi parallelismi molto forti uno a 17 anni come me vede quasi il Cile confusamente come una specie di Italia nell'emisfero sud che dà sul Pacifico e il ragionamento di Berlinguer è siccome in Italia la democrazia cristiana è forte a grande appoggio popolare fra gente che lavora fra operai fra lavoratori dipendenti fra contadini piccoli braccianti eccetera impiegati insomma fra quello che nel linguaggio della sinistra è il proletariato senza quel pezzo di proletariato non si possono fare le riforme socialiste guarda che tutto il proletariato ha uso il linguaggio leninista il ragionamento è solo se tutto il proletariato e c'è la grande maggioranza della società 60-70% è d'accordo si riescono a fare le riforme di tipo socialista utilizzando gli strumenti della liberale democrazia siccome che siccome che da noi scherzo ecco che spero si capisca siccome che da noi un pezzo di proletariato è cattolico è cristiano sta con la democrazia cristiana l'unica maniera per averli dentro è fare alleanza con la democrazia cristiana isolando gli altri che invece PRI, PLI, MSI sono la reazione sono la minoranza quindi occorre fare il compromesso storico questo è il ragionamento di Berlinguerra prego il ragionamento di Berlinguerra è appunto ci sto ripensando perché non è esattamente che penso al compromesso storico un giorno sì un giorno no l'opposto mi sembra un po' archeologia classica come quanto pensi agli etruschi raramente ciò ne può capitare ma non è che penso cosa facevano gli etruschi però in effetti nonostante la retorica che se volete è molto è molto da come in turn c'è un aspetto i famosi tre articoli si chiamano riflessioni dopo il fatto del Cile li trovate su rinascita di quell'anno proprio subito comincia subito dopo il periodo del golpe che implica moltissimo il partito comunista cioè i russi fanno salti mortali col KGB per fare uno scambio di prigionieri col segretario del partito comunista cileno cioè diventa una roba un po' un caso internazionale e naturalmente i ragazzi vanno a ascoltare gli intilimani Violetta Parra è tutto un tabaran di artisti che purtroppo sono esiliati sono davvero esiliati perché alcuni alcuni poeti cileni sono stati massacrati di botte sono morti proprio di botte comunque lasciamo perdere gli aspetti più truculenti della vicenda Berlinguer fa una cosa che capisco irriti molto il gruppetarismo io all'epoca ero su posizioni abbastanza defilate un po' da tutto però nel 73 avevo capito cosa succedeva questo qui aveva nel suo modo un po' un po' da sassari cioè senza molta fanfara aveva detto addio al leninismo cioè non è vero che esiste un'avanguardia che deve guidare cioè non c'è il bolshevismo era una cosa di poche persone che era un'avanguardia che doveva in qualche maniera plasmare intere nazioni in un modo detto male o con le buone o con le cattive cioè chi vuole mettersi d'accordo tanto meglio gli altri gli spariamo addosso fino a che stanno zitti quando non vogliono veramente stare zitti li faremo morire di fame questo succede nell'arco di 15-20 anni non ci mettono due secoli a degenerare va molto alla sveglia Berlinguer rompe con questa cosa la cosiddetta trasformazione socialista che secondo molti incluso il sottoscritto al momento attuale sto parlando del 2023 è abbastanza illusoria in quel senso di trasformazione socialista mentre ci sono una miriade di cose da modernizzare è una trasformazione che è l'effetto di una specie di marchi ingegno che è l'enorme maggioranza della gente certamente include la classe operaia tradizionalmente intesa i lavoratori della produzione dei servizi dei trasporti eccetera eccetera ma include i famosi cetimedi progressivi cioè tabaccai comunisti cioè quello che volete voi gli intellettuali gli universitari un po' quasi tutti chi si escludeva da questa cosa doveva essere abbastanza una carogna perché era evidente che quando c'era il 50 una volta ma il 60 il 70% che proponeva certe riforme peraltro alcune molto sensate cioè per intendersi l'abolizione dei manicomi è stata votata da una stragrande maggioranza incluso gente me l'hanno spiegato i fautori uno dei motivi questi sono gli aspetti interessanti dell'esilazione è che mentre a nessuno frega nulla di certe cose marginali quasi tutti hanno in famiglia un matto per cui sanno che avere lo zio il cugino la sorella sotto elettroshock è una tortura per cui anche chi non fosse d'accordo con le versioni appunto di franco basaglia e colleghi c'è un aspetto in cui queste cose diventano abbastanza sensate in berlinguer questa roba diventa parossistica e diventa secondo me una vera cosa antileninista cioè le masse non c'entrano più questo grande processo in realtà diventa effettivo andando a discutere con Moro che non è vero che c'è un grande apporto ci sono alcune cose ma sono veramente un po' marginali non bisogna perdere perdere di vista il caffè guardando la schiuma ci sono piccole cose appunto Monsignor Bettazzi andare all'Olivetti a parlare con gli operai cattolici ma quello che è decisivo è che questa prende una vera torsione che fa irritare l'estrema sinistra diciamo i gruppi extraparlamentari praticamente tutti perché è un'idea che è l'opposto del leninismo cioè calma e gesso numero uno la democrazia non va abolita non è un trucco è una delle componenti del socialismo in sé numero due noi non siamo l'avanguardia di niente non siamo piccoli anzi più grandi siamo meglio è per cui non solo votate il partito comunista ma iscrivetevi al partito comunista anche se non avete nulla a che fare col comunismo per cui c'è gente che vota comunista che è lontana da lenin ecco quanto marte da plutone eppure questa cosa per un periodo brevissimo ha un consistente successo perché perché le vittorie politiche sono considerevoli cade una giunta comunale viene sostituita da un'altra il primo caso è venezia a opera di due persone credo ancora vive uno si chiama dorigo e uno si chiama rigo non è uno scherzo uno si chiama veramente dorigo e l'altro si chiama rigo credo che vladimiro sia morto può darsi non lo so chi è più bravo di me guardate wikipedia sicuramente ci sono le date non lo so se sia vivo ci sono alcune persone alcuni dei grandi erano soprattutto nelle aree di pianificazione industriale e urbanistica si vladimiro è morto anche molto tempo fa nel 2006 ecco appunto allora uno di questi era vladimiro dorigo il locale capatazzo socialista era come si chiamava rigo nessuna relazione tranne la coincidenza delle lettere e così via lentamente cadono nel 75 c'è veramente un effetto di sfondamento cioè quando le elezioni regionali diventano una realtà politica vera non solamente la messa in in esecuzione della Costituzione l'idea che ci fosse un ordinamento regionale è nella Costituzione dal 46 quindi anche lì la DC ci ha messo quasi 30 anni a attuare uno dei dettati costituzionali tra l'altro uno dei meno utopici perché quelli di essere fondati sul lavoro non si sa bene come si può essere fondati saremmo fondati sull'ozio a me piacerebbe una Costituzione si è fondati su fate un pochino quel cazzo che vi pare l'ozio va bene comunque non ha importanza lasciate perdere la battuta questa cosa viene effettuata nelle regioni c'è un vero sfondamento e lì è un po' la vera presa del potere di Enrico Berlinguer e probabilmente anche l'apoggeo di una cosa qui se uno fosse più complottista del sottoscritto c'è un aspetto strano che effettivamente in quel momento comincia il terrorismo per davvero che monta 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 dal 75 al 78 il 78 è quasi l'ACME con il il rapimento la detenzione e poi l'esecuzione e l'assassinio di Moro e questa cosa monta ininterrottamente secondo me non c'è un rapporto di causa effetto non c'è un gran complotto secondo me c'è nel senso che c'è ideologicamente adesso io non non so se ci sia anche qualcuno che magari un pochino ha approfittato ha spinto ha finanziato però culturalmente socialmente c'è proprio per questa atmosfera e anche perché questi si convincono che devono dare è vero quello che hai detto tu ha ben pensato il ragionamento di Berlinguer se adesso e anche al tempo il punto di partenza del ragionamento di Berlinguer io mi ricordo che lo condividevo e se assumessi il punto di vista di uno che vuole il socialismo cosa che da quasi 50 anni 45 anni non faccio più però se mi metto che ho 18 anni e dico io vorrei le riforme socialistiche siccome vivo in un mondo di classe operaia pura e dura in cui metà sono cattolici e votano di C sono iscritti alla Cisola mi dico anche le riforme socialiste con mio padre mio zio gli amici mio padre e mio zio metà della mia scala che va a Porto Mariera contro non la fai infatti mi ricordo nel 74 vado al congresso locale di Evanguario Operaia dove discutono di socializzare il petrolchimico gestione assembleare le fabbriche dico voi siete matti nella testa a parte che non avete idea di come cazzo funziona una fabbrica se vedete che non ci siete mai stati ma porca madosca dico ragazzi siete fuori di testa se voi pensate di fare la rivoluzione in fabbrica a Porto Mariera la scala di 14 appartamenti proletari metà vi riempie di botte e l'altra metà guarda indifferente dicendo si se bravi però non stai che dà massa botte sono fia quindi non esiste quindi da quel punto di vista l'idea sua di se vuoi il socialismo devi almeno avere tutti i proletari la metto proprio brutale brutale no ha ragione Adriano questo non è leninista se vuoi no perché appunto Lenin dice hanno l'avanguardia fa ha perfettamente ragione Adriano nell'inquadrarla così anche se lui cita Lenin diciamo che lo lo berlinguerizza lui vuole che la totalità o la quasi totalità di quelli che vengono considerati i proletari e cioè i benefici i supposti beneficiari delle riforme socialiste siano d'accordo quindi il problema che lui pone secondo me è vero poi è verissimo quello che dice Adriano e infatti è la ragione per cui entrambi dentro al PC ci troviamo contro il compromesso storico perché non c'è lo senso mi avvicino al PC nel 75 e proprio sulla base di questo di questo ragionamento che occorre che ci sia la stragrande maggioranza e poi guardi quello che sta succedendo e quello che sta succedendo diventa un giochetto al vertice diventa appunto Berlinguer che parla Gomoro Pellicani che parla diventa un problema di accordi romani e di scarsa perché il PC in realtà non ha ma questo ne parleremo la settimana prossima post 75 non ha una proposta vera di riforme economiche radicali socialiste ha una confusione veramente notevole ma di questo se permettetene parliamo la settimana prossima di quello che il PC propone dal 76 77 78 79 sono gli anni una modestissima almeno nella mia nella mia esperienza sono d'accordo di grandi proposte non ce n'erano se dovessi considerare quelle che per me erano le due possibili alternative cioè diciamo l'area che venne chiamata come gli extraparlamentari cioè grosso modo MLS S-A-O-P-O-L-C questa specie di galassia più piccoli i cui nomi sono veramente un po' persi nella polvere dei tempi e l'asse PC PSIUP i gruppi extraparlamentari ne avevano ancora meno cioè non solo nessuno aveva idea di come si gestisse una fabbrica perché non lo sapevano cioè non c'era c'erano pochissimi ingegneri di potere operaio che potessero dire si fa così all'Alfa Romeo c'era un casino in cui gruppi piuttosto minori di operai dell'Alfa Romeo protestavano non stop detto questo il PC dell'epoca purtroppo molto differente dai partiti attuali era una specie di macchina pensatoio cioè ogni secondo minuto si alzavano persone purtroppo tutte decedute per cui mi perdoneranno ma si alzava Luciano Barca a spiegarti come si fa l'energia nucleare si alzava un altro a dirti come si fa la riforma ma di cose di cui io francamente capivo poco della cassa del mezzogiorno all'epoca ero piccolo non è che le capissi bene queste cose però era una specie di pensatoio continuo tutto questo sotto una cappa e questo fu probabilmente il limite decisivo di quel periodo dalle riflessioni sui fatti del Cile dal post colpo di Stato Cileno fino alla crisi del caso Moro e la cosa prese il tono veramente non solo di un giochetto romano ma di un gioco di vertici a livelli stato cioè veramente incontri notturni fra quattro persone i cui nomi sono tutti noti Barca Ancora Moro e Berlinguer sono tutti morti per cui non offendo nessuno questi si trovavano a luna di notte in un posto particolare in un parcheggio e discutevano di come rifare il morto la cosa aveva questi aspetti e se posso aggiungere un'altra caratteristica del tempo che inizia proprio nel 74-75 il PC diventa il punto di riferimento di molti gruppi intellettuali il PC si sovraccaria è pieno di riviste teoriche non c'è campo dello scibile umano delle scienze sociali in cui il PC non abbia la sua rivista e i suoi intellettuali c'è la rivista di diritto e giurisprudenza che discuterà di riformare lo Stato c'è quella di economia politica c'è quella di agricoltura ce ne sono svariate e poi devo dire avendo le letteri proprio anche in questi giorni sono alcune annate sono a casa di mio padre che mi ha detto cosa cazzo ti fa di quella di una volta e guardavo vecchi numeri che sono di critica marxista o di e francamente ragazzi detto onestamente delle cose che adesso capisco faceva ridere quella non era riforma era sprolocchi non me ne voglia il professor Cacciari che abbiamo criticato per altre ragioni forse più le affermazioni che lui e come si chiamava quell'altro con la Ianni e compagnia facevano al tempo sulla cosiddetta riconversione industriale erano degne di quell'altro con cui ho fatto i dibattiti 15 anni fa che voleva spiegare a Marchione come aggiustare la Fiat e aveva deciso che il piano industriale di Marchione era una cagata perché non era socialista abbastanza invece Marchione sapeva quello che faceva ovvero questi erano persone intellettuali di formazione fondamentalmente umanistica con zero conoscenza del mondo del business nessuna conoscenza dei cambiamenti tecnologici in corso e su questo non erano solo quelli di sinistra tutta l'Italia non capiva che quella che sarà diventerà Silicon Valley questi stavano facendo Windows Macintosh e così via non avevamo la più vaga alba nel 74 che stava accadendo e si straparlava fondamentalmente pensando di avere in mente come aggiustare il paese sia chiaro dall'altro lato sono i due aspetti da arrivare poi sto zitto perché abbiamo vastamente superato l'ora uno degli aspetti bizzarri di quel abbiamo superato l'ora perché abbiamo perso 10 minuti all'inizio dice un'ora e dieci il mio contatempo non ha importanza uno degli aspetti più buffi è che è comparsa una specie di follia di nomenclatura per cui sto esagerando non è che ci fosse veramente salumeria democratica ma quasi c'era una magistratura democratica una medicina democratica questi non li sto inventando sono tutti veri c'era una psichiatria democratica c'erano i proletari democratici ma in divisa cioè i militari con le scatole rotte perché non gli davano licenze a sufficienza non c'è nulla di male ma questa cosa nel caso del PC c'era una specie di delirio un po' san simoniano cioè che ci fosse una risposta a tutto c'era una specie di centro teologico che pubblicava le sue analisi su critica marxista che è una pessima rivista anche di filosofia veramente pessima adesso che era era peggio era peggio dei manuali dell'URSS però la dirigeva Nicola Badaloni la diretta un mucchio di gente la diretta Emilio Serini la diretta ma era una cosa un po' erano queste follie che ci voleva una specie che un partito politico dovesse essere come un seminario universitario per cui c'era una specie di filosofia di riferimento per cui bisognava dire una roba e questa bisognava infinitamente adattarla cioè se il segretario diceva bisogna essere più gentili con i cattolici uno scopriva che in una lettera di Marx quattordicenne aveva detto forse c'è Dio o idiozia comunque non ha importanza questa cosa generò una quantità enorme di cose che è vero viste adesso e qui sì sto abusando di una posizione di vantaggio nessuno o quasi nessuno aveva capito niente cioè che ci fossero questo è quello che mi ricordo davvero e forse adesso la gente non si è neanche conto nessuno aveva capito che ci fosse un reale problema ambientale proprio nessuno aveva fatto caso che quello che si faceva in decine di progetti da Gioia Tauro ai Poli dell'Eni a come è stata fatta Taranto proprio cose grandi di grandi progetti dell'ambiente sostanzialmente a nessuno interessava nulla al sindacato voleva garanzie di posti di lavoro cioè potete fare a Bagnoli o appunto a Terni fate quello che volete voi purché aumentiate i posti di lavoro di X per cento rispetto a quelli di adesso le giunte locali erano tutte contente perché prendevano più voti c'erano più gente di fare complete idiozie moltiplicando università senza senso perché ognuno assumeva più bidelli e tutti erano contenti e tutti questi problemi passavano mentre effettivamente c'era la ristrutturazione industriale cioè il mondo stava lentamente spostandosi e neanche tanto lentamente cioè dagli anni 70 agli anni 2000 il passaggio passa non è che passano due secoli passano vent'anni passa da un'industria pesante larghissimamente metallica e metallurgica e petrolifera a un'industria che è fatta un po' di microchips di computer ma voglio dire a nessuno gli viene in mente che era più importante garantirsi che l'Olivetti continuasse a vendere computer piuttosto che Iveco continuasse a fare autocarri questa roba non c'è queste robe adesso si possono rileggere tanto che non rileggio queste robe però tutti i miei ricordi mi dicono che nessuno aveva capito che da un lato come si stava effettivamente cambiando la cosa un amico di quegli anni mi ha detto beh non hai capito perché noi avevamo capito che era una risposta alle lotte operaie loro piuttosto di dover affrontare Detroit e Mirafiori e Marghera e Secondigliano hanno deciso di spostare tutto in Cina falso hanno deciso di fare Silicon Valley hanno deciso di fare innovazione massiccia ma non hanno dicevo l'amico nessuno ha deciso di spostare tutto in Cina anche perché la Cina comincia a dire Blink nel 1980 nel 79 e le cose hanno deciso succede una cosa banale che noi non siamo in grado di accettare e cioè l'aumento di due costi fondamentali un po' in tutto il mondo occidentale ma in Italia in particolare per le ragioni che abbiamo detto e cioè il costo del petrolio e quindi le fondi energetiche che aumenta per tutti drammaticamente e del lavoro che aumenta un po' dappertutto perché lotte sindacali forti ci sono anche in Francia in Germania ma non tanto come in Italia quindi in Italia la crescita del salario reale relativa è molto maggiore ha bisogno di una risposta tecnologica se vuoi mantenere immagini questa risposta tecnologica in alcuni paesi viene data e fra di essi c'è il computer in altri paesi non viene data o viene data pochissimo in Italia viene data meno di tutti perché perché ci si infila lo Stato che dice no no le teniamo su in piedi queste aziende decotte ormai perché i loro input fondamentali petrolio e lavoro costano troppo e questo ritarda ogni risposta non di cinque anni la ritarda per sempre in un certo senso perché l'unica roba che succede ma questa è storia degli anni seguenti che comincia a profilarsi in questi anni in cui stiamo parlando in 72-75 ma avviene tutto dopo queste aziende non vengono modificate e migliorate no spariscono per morte cioè quando proprio non ce la fai più a tenerle in piedi chiudono ma è lo sforzo di cambiamento e noi tutta questa roba noi 17 anni non è che dovessimo capirlo ma i Barca e i vari Napoleoni no non lo capiscono il dibattito a sinistra è tutto sul salario variabile indipendente sulla cosa che appena ha detto Adriano e cioè che il padrone ha una specie di comitato mondiale in cui si riuniscono e guardate che tutte le varie teorie sui rettiliani sono nient'altro che la visione paleomarxista del tempo 50 anni dopo che esiste una specie di comitato mondiale dei padroni che si riunisce e elabora strategie di risposta alla cosiddetta lotta operai totale foria la parte interessante prego no no all'epoca quelli che leggevano l'inglese avevano perfino identificato prima dei reptiliani la famosa trilaterale che c'era un vero comitato trinitario che si chiamava trilaterale che si riuniva in posti più o meno oscuri e incomprensibili a cui partecipavano persone strane credo che ci fosse è una cosa sarebbe il caso di discuterne seriamente per chi ama i problemi politici c'è un vero conflitto di come interpretare dei fatti una parte ha una tesi come dire intenzionale se questi spostano la produzione sui computer c'è un complotto non ha importanza se c'è un complotto diretto da me da Jobs da Gates da chi volete voi c'è un complotto cioè ci vuole un agente che in qualche modo ha un fine in testa fare in modo che ci siano meno operaie più robot che costruiscono delle macchinette più leggere e più domandate dai consumatori e la tesi non intenzionalista in cui i cosiddetti mercati sono un po' come la natura nessuno ha deciso la scomparsa dei grandi sauri cioè di T-Rex bisogna scomparsi è perché è cascato in testa un bombardamento di meteoriti non lo so è perché mangiavano troppa erba e hanno terminato la disponibilità del cibo ma naturalmente nessuno l'ha previsto se un mercato comincia a essere visto non necessariamente come la natura nel senso che evolve nel senso in cui evolve che ne so il gorilla verso il suo discendente proto-umano ma evolve per conto suo cioè ci sono dei fattori che spingono ad esempio il fatto che il petrolio diventa più raro e più caro ha spinto a ridurre queste cose io di queste cose all'epoca confesso non ho visto traccia e non solo non ho visto traccia nella sinistra ma non ho visto traccia nella destra cioè c'erano pochissime persone ma veramente pochissime forse gli unici casi sono i primi barlumi dei naturisti ecologisti di chi aveva cominciato a vedere che forse era un problema di sviluppo in un altro senso secondo me dicevano altrettanto idiozia però ne avevano un barulio nei gruppi appunto per dar due nomi di due morti per cui mi scuso Claudio Napoleoni e Luciano Barca che non hanno affatto i deficienti se li leggi adesso non so come metterla ecco mi sembra come leggere ecco Paperone che è cattivo perché è avaro perché sostanzialmente rifiuta che ci sia la condivisione dei suoi soldi ora bisognerà ritornarci secondo me è lì che casca un po' l'asino l'Italia è è un è un è un anello debole di questa catena un anello estremamente debole perché non è vero che tutta l'Europa prende queste catena cioè i finlandesi cominciano a fare telefoni gli italiani insistono e c'è una lotta che è durata dodici oddio un decennio dopo dai no un decennio dopo però hanno cominciato mentre l'Italia per un decennio e mezzo ha difeso i panettoni c'era una lotta sindacale sulla produzione del panettone che va fatto in un certo è vero quello che dice Marco Ginebri adesso dovremmo allargarci e avendo scelto di parlare gli anni settanta in Italia a parlare anche di tutta l'Europa diventa complicato è vero quello che dice Marco cioè l'Europa complessivamente non reagisce con la stessa elasticità americana perché quello che l'America invece fa superato lo shock Vietnam la seconda metà degli anni settanta è di grandissima innovazione che poi è di riaggiustamento tant'è che per esempio la decisione in là alla decisione di dire basta con le politiche monetarie adattive basta con le politiche monetarie che accomodano e continuano a creare inflazione basta con queste idee che creiamo un po' di inflazione e usciamo dalla stagnazione la danno gli americani e la dà sotto il governo di Carter Volker che non è messo lì da Reagan poi Reagan ovviamente lo appoggia ma la dà Volker e da lì poi gli europei e gli europei seguono i tedeschi per primi contentissimi terrorizzati all'inflazione gli italiani per ultimi e gli altri via via in mezzo ecco c'è uno spettro di eventi l'Inghilterra cambia rapidamente sotto Tachers punta su Londra il finanziario eccetera i paesi scandinavi arrivano dopo però arrivano la Svezia arriva a buon ultimo nel 94 ma la Svezia nel 94 fa delle riforme drammatiche poi voi vi guardate il tasso di crescita svedese dal 94 in avanti e scoprite che è un altro pianeta da noi tant'è che la distanza fra noi e loro in termini di reddito in questi quasi 30 anni è aumentata enormemente l'Irlanda lo fa nell'85 cioè non è che tutti fanno le cose l'Italia no l'Italia praticamente rimanda a tuttora quindi noi siamo proprio il re i tedeschi fanno due botte reagiscono in qualche maniera negli anni 80 poi hanno la grande botta dell'arrivo erano 20 milioni circa 18 milioni di tedeschi dell'est passano 10 anni di grande crisi diversa ovviamente poi però nel 2003 reagiscono quindi è vero quello che dite e c'è un po' tutta l'Europa che che tarda e si vede ancora no si vede ancora se guardate io sono molto meno educato e ferrato in storia economica di quanto lo sia Michele per ovvie ragioni ma è vero c'è un ritardo europeo c'è un ritardo europeo perfino al rispetto a Singapore alla Corea al Giappone c'è un ritardo europeo avete perfettamente ragione però in questo ritardo europeo sarò io che sono miopicamente uno che guarda l'Italia dal fuori l'Italia è sempre peggio dell'ultima delle ruote di scorta cioè continua per quanto si possa essere critici delle cose che hanno fatto i tedeschi i francesi gli svedesi va tutto benissimo il tipo di viscosità di questa roba cioè fare qualcosa e prendere una decisione è di una lentezza esasperante ma veramente esasperante non so se si ha adesso nella stessa condizione però se guardate almeno i dati come dire immediati la risposta a questa roba vera perché è vero che c'è una crisi negli anni 70 c'è una forma di ristrutturazione di alcuni equilibri industriali e ogni paese risponde in modo diverso il caso tedesco è particolarissimo perché appunto all'improvviso quando finisce la Repubblica Democratica diventa una Repubblica federale enorme cioè come se l'Italia dovesse assorbire l'Austria e la Cicoslovacchia in una botta sola gli italiani diventerebbero mati però loro riescono a tenere la botta gli italiani purtroppo si non so cosa dire si incagliano sono semi drogati da eccessi di retorica però la mia impressione è che rispetto al resto dell'Europa ma quasi tutta l'Europa cioè incluso l'Irlanda da paesi relativamente poveri e periferici i grandi colossi tedesco francese inglese si capisce un po' di più che l'Irlanda si sviluppi più dell'Italia boh è un po' più misterioso a me loro hanno questa cosa cosa sia successo ai posti di larga sentenza veramente non lo so però è vero che almeno osservato bene è anche vero ad esempio perché quando alcuni del pubblico mi hanno giustamente spintonato e punzecchiato su alcune cose cioè ci sono tre fenomeni in Europa di di guerriglia urbana d'accordo ritornando al tema del terrorismo uno è azione diretta in Francia uno è la RAF in Germania e uno è il il pulviscolo brigatista come volete voi brigatista autonomista dipende da come lo volete descrivere voglio dire che quegli italiani siano assai più incagliati cioè in Francia non succede niente mettono in prigione quelli di action direct e buonanotte sono tuttora in prigione in tedeschi siccome sono tedeschi sono un po' più duri quando mettono quelli della della frazione dell'armata rossa in prigione questi dichiarano lo sciopero della fame loro dicono va bene la cucina viene chiusa sono un po' cattivi questo è il famoso fenomeno di Stamheim che tanto terrorizzava l'italiano cioè quando questi dicono noi entriamo in sciopero della fame va bene noi abbiamo chiuso la cucina e sono morti di fame probabilmente di suicidio in Italia questa roba va avanti per 25 anni cioè le brigate rosse mi dispiace perché sono andato a riguardare i numeri le brigate rosse sono sostanzialmente fondate dopo la fine dell'autunno caldo quindi parliamo della fine del 1969 inizio 70 l'ultimo omicidio delle brigate rosse che è perfino post Biaggi che era un economista del lavoro che è stato purtroppo assassinato non mi ricordo più dove all'università credo c'è una tale mezza salma che spara un ferroviere francamente di un paese un po' incagliato anche su se stesso perfino i terroristi i terroristi ci mettono tanto a capire che è finita sono un po' sempre come quelli dell'antemarcia siamo sempre in guerra con l'Etiopia no dottor è finita l'Etiopia è stata liberata male bene affari vostri l'Italia mi dà questa impressione magari vale la pena di ritornarci uno dei fenomeni che chiaramente paralizza questa cosa è che le trasformazioni che la sinistra riesce ad imporre entro un certo limite però alcune cose cambiano negli anni 70 si veramente infognano tra mettiamola così verticismo e terrorismo cioè gruppi più o meno più giovani dal punto di vista generazionale tenete presente che questo periodo è ancora vivo che ne so Riccardo Lombardi Giorgio Amendola cioè sono ancora gli ultimi dei capi della resistenza che girano alcuni che svolazzano verso alte vete utopiche ma perfettamente incomprensibili uno dei dibatti dei comunisti era questa famosa roba del nuovo modello di sviluppo che nessuno sapeva cos'era ma veniva evocato come se fosse una come una medicina universale veramente l'illisil d'amore quando ti metteva evocare ci vuole un nuovo modello di sviluppo che nessuno sapeva cos'era che appunto non era facciamo computer era un nuovo modello di sviluppo in cui non si sa comunque il mio obiettivo non è la polemica è provare a situare in quel periodo una delle ragioni di una reale decadenza perché se è vero che ha la vera grande trasformazione non Michal Polani la vera grande trasformazione che passa da Detroit Mirafiori il petrol chimico a Nokia Apple Google e poi ancora sempre più verso l'artificial numerico l'Italia diventa un po' dopo l'ultima ruota di scorta cioè cresce non solo meno della Corea del Sud che ha problemini non così banali cioè alle bombe atomiche alla frontiera ogni secondo minuto l'Italia sostanzialmente dopo allo scadere della guerra al Fred l'Italia non ha nessun problema esterno se l'è creata lei con l'immigrazione non c'è proprio un problema neanche un problema di tipo tedesco che ci siano gruppi da unificare di unificare e lì sì vi invito un attimo a pensarci cioè cosa è stata la decadenza da un lato o l'occasione persa di come da uno la legge io a volte quando sono meno cinico e più e più duro penso che sia un'occasione persa cioè che alcune cose potevano essere fatte forse non diventare la California perché credo sia impossibile però alcune cose potevano essere fatte il fatto di non averle fatte ha prodotto se non altro la scomparsa di una generazione di quadri proprio la scomparsa io ogni volta che vado e l'ho fatto adesso per parecchi decenni ogni volta che vado a una conferenza trovi sempre che c'è un italiano in un posto completamente imprevedibile cioè che vive al centro dell'Islanda e insegna ingegneria meccanica perché in Italia se n'è andato perché ha le scatole rotte perché si sta male eccetera eccetera questa cosa è un po' una generazione che davvero se n'è andata ma a voi che probabilmente tra le ascoltatrici e gli ascoltatori che siete più giovani di me mi dite un po' voi come la vedete adesso l'impressione di un'occasione persa mi viene in altri casi può essere invece che sia come gli etruschi a un certo punto hanno perso la falcata se fosse una corsa a piedi e una volta che la perdi la perdi cioè la maratona dura 42 km se al ventesimo cominci a rallentare buonasera gli altri vanno via ecco mi dice Binetti Biaggi fu ucciso sotto a casa sua mi scuso non mi ricordavo esattamente l'economista Biaggi fu ucciso sotto a casa sua come un po' eraccio molto dopo Moro anni 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 non è il periodo dell'attacco alla DC era uno sì sì è assolutamente vero per questo sono anni cruciali capito e siamo riusciti non vi abbiamo parlato di com'è c'è il referendum sul divorzio una delle letture che venne fatta è che le elezioni anticipate del 72 che portarono al governo Anderotti furono una specie di accordo implicito di CPC per posticipare il referendum che poi comunque avvenne nel 74 il paese è in gran turmoil è la cosa che è importante io credo riconoscere che né da un lato né dall'altro c'è capacità proprio intellettuale di guidare di dimostrare un'Italia diversa da quella del miracolo economico e forse è per quello capite che tuttora mezzo secolo dopo fa veramente impressione perché provate a pensare nel 72 sono passati solo 25 anni 26 dalla fine della seconda guerra mondiale adesso ne sono passati 50 dagli anni che stiamo discutendo e l'Italia da Sanremo che celebra la follia di oh che bello Ranieri che cazzo sono gli altri due 80 anni tutti assieme a Sanremo ai discorsi sulla scuola è lì che si sogna gli anni 70 cioè c'è proprio l'inizio degli anni 70 che in realtà poi loro vogliono dire gli anni 60 prima delle lotte sindacali per cui c'è una specie di mitologia del panettone e la lambretta e fa spavento però è vero cioè in quegli anni almeno c'è una specie di disegno del paese che si riprende dalla seconda guerra mondiale si ricostruisce bla 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 e da allora c'è un rifiuto continuo persistente di accettare che il mondo è cambiato che il mondo è cambiato anche tu in realtà e che devi fare le cose diverse devi adattare quegli anni con queste cose che stiamo cercando di descrivere questi dibattiti assurdi qui non perché non è noi ovviamente sappiamo di più di quello che viene detto a sinistra che Andrino l'ha caratterizzato benissimo prima mancava solo pasticcere democratico rivista tecnica di nuova cucina avrebbero anticipato la novel cuisine che c'era già infatti c'era la novel cuisine ma nessuno se n'era accorto in Italia a sinistra c'era quella roba lì guardate che a destra o nella democrazia sinistra non c'era un cazzo non è che ci fosse grande elaborazione socio-economica non c'era c'erano sparuti Bruno Visantini che avendo minimi conoscenze si inventa una riforma fiscale che però è in minoranza e viene fatta male 15 anni prima come abbiamo detto c'erano Ruffolo e Giolitti che teorizzavano la programmazione socialdemocratica non c'è molto altro non c'è molto altro infatti se uno si dice ma perché nel 75 la sinistra nelle regioni nelle città italiane stravince perché stravince obiettivamente rispetto al punto di partenza il PC nelle elezioni 72 aveva preso il 27% il numero del genere e in tre anni prende quasi no prende 10 punti percentuali in più è una roba una crescita enorme ok e il PSI pure cresce tant'è che fanno maggioranza assoluta in metà d'Italia da cosa si deve questa cosa ma si deve riferendo sul divorzio che dove vince la parte che vuole mantenere il divorzio ovviamente crea entusiasmo diciamo per meccanismi di cambiamento e un po' è il senso che dal mondo della democrazia cristiana del partito liberale del partito democratico non viene una risposta alla crisi e c'è forse il primo caso di questa lunga sequenza di speranze deluse italiane viene posta la fiducia nel PC poi verrà posta la fiducia delle grandi masse in Craxi poi in Berlusconi e poi arriviamo ai giorni nostri a me sembra così perché non è che ci fosse poi sto gran quello che mi viene in mente è più come dire un quesito storico in tutti questi casi la cosiddetta fiducia delle masse va all'asse socialista comunista in una fase poi all'asse Berlusconoide prima Craxiano Craxi Forlani eccetera però nessuno di questi riesce ad affrontare in nessuna maniera né da sinistra da destra cioè con tutti i mali che se ne possono dire le linee di stile qui sto veramente esagerando e ne sai tu più di me le linee di stile Milton Friedman e Augusto Pinochet neanche quelle ci sono in Italia cioè neanche i governi diciamo anti sinistra riescono a combinare una cica cioè può darsi che mi sbagli ma la mia impressione è che perfino i più cosiddetti decisi decisionisti schmittiani Craxi e compagnia in realtà combinano poco assai e ci sono alcune cose o molto meno di quel che si doveva di lì si deve partire il terrorismo diventa e lì veramente mi sto zitto la risposta a mio avviso isterica nel senso stretto del termine nella psicopatologia di fronte a questa specie di blocco globale un partito armato diventa sempre più una specie di gabbia di scemi che si occupa senza nessuna relazione col mondo di una guerra che hanno deciso loro e forse per questo dura molto di più cioè quando la RAF viene sconfitta buonasera nessuno nei sindacati tedeschi pensa che ci sia un problema RAF pensa che ci sia un problema legale che si arrangino i giudici che giudichino come gli pare buonasera in Italia no continua questa cosa e le Brigate Rosse hanno la straordinaria capacità di tirare avanti decenni in una versione in una seconda versione giustamente uno del pubblico mi ha fatto notare che al tempo del caso Moro praticamente tutta la direzione delle Brigate Rosse è in carcere con l'eccezione credo di Moretti e Morucci ma credo che siano gli unici due che erano fuori all'epoca e loro sono loro che sono tutti gli altri Franceschini come si chiamava Curcio sono tutti in gabbia in questo caso in gabbia davvero il processo si svolge con una gabbia è come se fossero state le tigri allo zoo comunque a parte le battute questa cosa è abbastanza strana perfino il terrorismo italiano è anchilosato cioè i terroristi bravi diventano ministro degli esteri in Germania il 68 tedesco diventa una parte delle riforme che fanno i tedeschi gli italiani bisogna pensarci di più comunque la mia contribuzione è sostanzialmente questa il blocco degli anni 70 è che il tentativo forse mal concepito del cosiddetto pensiero del compromesso storico diventa un aggeggio talmente di vertice e talmente alla fine contro l'idea di unificare la massa iperelitario che diventa ineffettuale il terrorismo ha una notevole capacità contributoria di bloccare tutto questo perché da quando comincia e questo comincia nel 1977 i cosiddetti movimenti più come si chiamavano gli indiani metropolitani eccetera eccetera questa cosa diventa un po' il blocco finale nel senso che diventa come la priorità del giorno non è vero che bisogna pensare a chi farà i telefoni portatili bisogna pensare a chi può mettere un tappo sulle rivolte carcerarie che sono decine all'epoca andatevi a guardare le crona che sono veramente tantissime a chi ha un approccio più o meno che non fosse da Stalin succumere e primere senza trasformare veramente il paese in un campo di concentramento a chi preme per i veri campi di circondentamento cioè Favignana Asinara eccetera eccetera però questo blocca tutto il terrorismo ha sia una parte anch'ilosata in se stesso cioè pensano di essere JAP invece sono dei poveri deficienti sui navigli e gli altri che pensano di essere non so dire cosa Fouquet Beria ma vi auguro un eccellente weekend perché dice qui il mio implacabile cronometro che ho parlato io ho parlato in parte ho parlato io abbiamo parlato un'ora e 39 minuti 38 minuti sono tanti sì adesso ci siamo allungati di nuovo quindi salutiamo tutte osservazioni giuste che vedo arrivare beh si riprende la settimana prossima dal 75 e questo fenomeno sì delle speranze dei cambiamenti indolori vedo che alcuni hanno messo l'elenco Craxi Berlusconi eccetera sì sì tutto vero tutto vero e forse questa è una cosa che va analizzata proprio di psicologia collettiva però basta così grazie Adriano grazie a tutti per la compagnia grazie a voi buonasera buon fine di settimana ciao a tutti ciao ciao grazie